Sfoggia una dialettica sempre da paura. E ma c'è, beccola la, la Francesca? Mi dicono, partono dalle pedane? Partite da sotto? No, partono dalla... Sei... Eh, sei versato. Ah, sui pallini, andate sui pallini, andate lì, vai. Insomma, i nostri rubetti, i rubinetti. Massimiliano è stato chiarissimo, porca miseria. Apritemi il collegamento. Insieme, Ilari e Massimiliano fanno scintille. Stasera, per la prima volta, vi faccio entrare dentro la patata, la palapa. Ilari, Ilari, vedi, mi manda in tilt. E come ogni coppia, dopo un po', scoppia. Descrivici la prova, Massimiliano. Credevo che lo vorresti fare tu, che già prima ho sentito che diceva a tutti quanti cosa succedeva. Ah, noi siamo qui che aspettiamo te, ci sono venuta da Roma apposta, io. Sei sempre delicatissima. Te lo sto cercando di spiegare, Ilari. Ma attenzione a non tirare troppo la corda, Massi. perché ci vuole niente a essere seduti e abbandonati. Qualcuno mi viene a prendere? Massi! Sei rimasto solo! Insomma... Massimiliano, il mio eroe, sei tu! Lo so, lo so, complimenti perché in effetti io ti vedo soltanto nelle foto, non ti ho mai gustata. Però credo che, insomma, ci stiamo divertendo, no? Me la canto, me la suono da solo, vuoi dire? Senti, Massimiliano, stasera io e te facciamo il gioco dell'uva, lo conosci? Non lo conosco, no. Ognuno a casa sua. Ok... Grazie a tutti